Il club dei duellanti Quella domenica mattina, Harry si svegliò alla luce del sole invernale che inondava la stanza e con il braccio riossificato, anche se ancora molto rigido. Si mise a sedere e sbirciò il letto di Colin, che però era stato escluso alla vista dalle lunghe tende dietro cui Harry si era cambiato il giorno prima. Vedendo lo sveglio, Madame Pomfrey si avvicinò sollecita con il vassoio della colazione e poi cominciò a piegargli il braccio e a stirargli le dita. «Tutto a posto», disse mentre lui cercava a fatica di cacciarsi in bocca il porridge con la mano sinistra. «Quando hai finito di mangiare puoi andartene». Harry si vestì più in fretta che poté e si avviò di gran carriera verso la torre di Grifondoro, ansioso di raccontare a Ron e a Hermione di Colin e di Dobby. Ma non li trovò. Partì alla loro ricerca, chiedendosi dove si fossero cacciati e sentendosi un po' offeso da un simile disinteresse per la sorte del suo braccio. Mentre passava davanti alla biblioteca, ne uscì Percy Weasley, che pareva di umore assai migliore dell'ultima volta che si erano incontrati. «Salve, Harry!» lo salutò. «Ottimo volo ieri, veramente superbo. Grifondoro è già in testa alla classifica per la Coppa delle Case. Hai vinto cinquanta punti!» «Hai visto per caso Ron e Hermione?» chiese Harry. «No», rispose Percy e il sorriso gli si spense. «Spero che Ron non si sia infilato un'altra volta nel bagno delle femmine!» Harry si costrinse a ridere, aspettò che Percy fosse andato via e poi si diresse difilato al bagno di mirtilla malcontenta. Non riusciva a capire perché Ron e Hermione avrebbero dovuto essere di nuovo lì, ma dopo essersi assicurato che né Filch né qualche prefetto fossero nei paraggi, aprì la porta e udì le loro voci provenire da un gabinetto chiuso a chiave. «Sono io!» disse chiudendosi la porta alle spalle. Da dentro il gabinetto si udì qualcosa cadere rumorosamente dentro l'acqua e un respiro soffocato. Poi Harry vide l'occhio di Hermione sbruciare attraverso il buco della serratura. «Harry!» esclamò. «Ci hai fatto prendere un colpo! Entra!» «Come va il braccio?» «Bene!» disse lui trattenendo il respiro per riuscire a infilarsi nel gabinetto. Sul water era stato sistemato un vecchio calderone e da uno scoppiettio proveniente da sotto Harry capì che era stato acceso un fuoco. Accendere fuochi portatili a prova d'acqua era una delle specialità di Hermione. «Dovevamo venire a trovarti, ma abbiamo deciso di cominciare a preparare la pozione polisucco», spiegò Ron mentre Harry richiudeva a chiave il gabinetto con una certa difficoltà. «Abbiamo pensato che questo è il posto più sicuro dove nasconderla». Harry cominciò a raccontare di Colin, ma Hermione lo interruppe. «Lo sappiamo già. Questa mattina abbiamo sentito la McGonagall che lo diceva Flitwick. Per questo abbiamo deciso che era meglio iniziare. Prima otteniamo una confessione da Malfoy, meglio è», disse Ron con tono aggressivo. «Sapete cosa penso? Che era talmente fuori di sé dopo la partita a Quidditch che se l'è presa con Colin. Ma c'è dell'altro», disse Harry guardando Hermione sminuzzare alcune foglie di lunaria e gettarle nella pozione. «Dobby è venuto a trovarmi nel bel mezzo della notte». Ron e Hermione alzarono gli occhi, stupiti. Harry raccontò tutto quel che gli aveva detto o che non gli aveva detto Dobby. I due ragazzi ascoltarono a bocca aperta. «La camera dei segreti è stata già aperta un'altra volta», chiese Hermione. «Questo spiega tutto», disse Ron con voce trionfante. «Lucius Malfoy deve aver aperto la camera quando studiava qui e ora ha spiegato al caro Draco come si fa. È evidente. Peccato che Dobby non ti abbia detto di che tipo di mostro si tratta. Mi chiedo come sia possibile che nessuno l'abbia mai incontrato in giro per la scuola». «Forse può rendersi invisibile», disse Hermione spingendo le sanguisughe verso il fondo del calderone. «O forse si camuffa, fa finta di essere un'armatura o cose del genere. Ho letto qualcosa sui ghoul muta forma». «Tu leggi troppo, Hermione», disse Ron versando le mosche Crisopa morte sopra le sanguisughe. Appallottolò il sacchetto che le aveva contenute e si voltò a guardare Harry. «E così è stato Dobby a impedirci di salire sul treno e a romperti il braccio», scosse il capo. «Sai una cosa, Harry? Se non la smette di cercare di salvarti la pelle, finisce che ti ammazza». Il lunedì mattina la notizia che Colin Crivei era stato aggredito e che ora giaceva come morto in infermeria era ormai di dominio pubblico. L'aria si fece subito greve di voci e di sospetti. Ora gli studenti del primo anno si spostavano per il castello a ranghi serrati, temendo di venire aggrediti se si fossero avventurati da soli. Ginny Weasley, compagna di banco di Colin, alla lezione di incantesimi, aveva l'aria disperata. Harry riteneva che Fred e George avessero scelto il modo sbagliato per farla ridere. A turno si coprivano di pelo o di bolle e poi sbucavano all'improvviso di fronte a lei da dietro le statue. Smisero soltanto quando persi, inferocito, li minacciò di scrivere alla madre che Ginny soffriva di incubi notturni. Nel frattempo, all'insaputa dei professori, fra gli studenti prendeva piede un fiorente commercio di talismani, amuleti e altre protezioni. Neville Longbottom acquistò una grossa cipolla verde maleodorante, un cristallo appuntito color viola e una coda di tritone putrefatta, prima che i suoi compagni di Grifondoro gli spiegassero che lui non correva pericolo. Essendo un puro sangue, era assai improbabile che venisse aggredito. Il primo a cui hanno cercato di far del male è stato Filch, disse Neville col terrore dipinto sul faccione rotondo. E tutti sanno che io sono praticamente un mago no. La seconda settimana di dicembre, la McGonagall fece il solito giro per annotare i nomi di quelli che sarebbero rimasti a scuola per Natale. Harry, Ron e Hermione firmarono la lista. Avevano sentito dire, infatti, che Malfoy sarebbe rimasto, il che parve un fatto molto sospetto. Le vacanze sarebbero state il momento ideale per servirsi della pozione polisucco e cercare di ottenere da lui una confessione. Purtroppo la pozione era pronta solo per metà. Mancavano ancora il corno di Bicorno e la pelle di Girilacco, e l'unico posto dove reperirli era la dispensa privata di Piton. Personalmente, Harry avrebbe preferito affrontare il leggendario mostro di Serpeverde, piuttosto che essere scoperto da Piton a rubare nel suo ufficio. «Quel che ci serve», disse Hermione animatamente, mentre si avvicinava alla doppia lezione di pozioni del giovedì pomeriggio, «è distrarlo». A quel punto uno di noi sgattaiola nel suo ufficio e prende gli ingredienti. Harry e Ron la guardarono nervosi. «È meglio che mi occupi io del furto vero e proprio», continuò Hermione in tono pratico. «Se vi cacciate in qualche altro guaio, voi due rischiate di venire espulsi. Io invece ho la fedina pulita». «Allora, quel che dovete fare voi è semplicemente creare abbastanza confusione da tenere occupato Piton più o meno per cinque minuti». Harry sorrise debolmente. Provocare confusione di proposito durante la lezione di pozioni di Piton era pericoloso almeno quanto cacciare un dito nell'occhio di un drago addormentato. Le lezioni di pozioni si tenevano in una vasta sala dei sotterranei. Quel giovedì pomeriggio la lezione si svolse nel modo consueto. Venti calderoni fumanti erano stati sistemati tra i banchi di legno, su cui erano poggiati bilance d'ottone e i barattoli degli ingredienti necessari. Piton si aggirava in mezzo a tutto quel fumo, facendo osservazioni pungenti sul lavoro dei grifondoro, mentre i serpeverde soghignavano in segno di approvazione. Draco Malfoy, che era il cocco del professore, continuava a lanciare occhi di pesce palla addosso a Ron e Harry, il quale sapeva che qualsiasi rappresaglia sarebbe costata loro una punizione immediata. Il decotto dilatante di Harry era troppo liquido, ma lui aveva per la testa cose più importanti. Stava aspettando il segnale di Ermione e quando Piton si fermò per fare commenti sarcastici su quel liquido acquoso, lo ascoltò a malapena. Poi Piton si voltò e andò a prendere in giro Neville. A quel punto Ermione incontrò lo sguardo di Harry e fece un cenno di intesa. Harry scomparve rapidamente dietro al suo calderone, tirò fuori dalla tasca uno dei fuochi d'artificio filibuster di Fred e lo colpì leggermente con la bacchetta. Quello cominciò a similare e a crepitare. Ben sapendo di avere soltanto pochi secondi, Harry si raddrizzò in piedi, si fece coraggio, lo lanciò in aria e quello andò a infilarsi dritto dritto nel calderone di Goyle. La pozione di Goyle esplose, inondando la classe. Tutti gridavano, colpiti dagli schizzi di pozione dilatante. Malfoy se ne prese uno spruzzo in faccia e il naso cominciò a gonfiarglisi come un pallone. Goyle brancolava per la stanza, con le mani sugli occhi, che gli erano diventati come due scodelle, e Piton cercava di riportare la calma e di capire cosa fosse successo. Nella confusione generale, Harry vide Ermione sgattaiolare furtivamente fuori dall'aula. «Silenzio! Silenzio!» tuonava Piton. «Tutti quelli che sono stati colpiti dagli schizzi, qui da me, per farsi fare uno sgonfiotto. Se pesco chi è stato!» Harry cercò di non scoppiare a ridere, alla vista di Malfoy che si precipitava da Piton con la testa che gli ciondolava in avanti sotto il peso di un naso, diventato grande come un melone. Mentre metà della classe si accalcava intorno alla cattedra del professore, chi con un braccio come una mazza, chi incapace di parlare per le labbra gonfie a dismisura, Harry vide Ermione tornare quattaquatta nell'aula. Sotto gli abiti si intravedeva un grosso bozzo. Quando tutti ebbero sorseggiato l'antidoto e fu posto rimedio alle varie tumefazioni, Piton si avvicinò al calderone di Goyle e trovò i resti contorti del fuoco d'artificio. Di colpo cadde il silenzio. Se scopro chi ha tirato questo coso, similò Piton, state pur certi che lo faccio espellere. Harry assunse un'espressione perplessa, o almeno sperò che sembrasse tale. Piton lo stava fissando dritto negli occhi e il suono della campanella che arrivò dieci secondi dopo non giunse mai tanto a proposito. Sa che sono stato io, disse a Ron e a Ermione mentre si avviavano velocemente al bagno di mirtilla malcontenta. Ne sono sicuro. Ermione gettò i nuovi ingredienti nel calderone e cominciò a rimescolare febbrilmente. Sarà pronta tra una quindicina di giorni, disse con entusiasmo. Piton non può dimostrare che sei stato tu, Ron rassicurò Harry. Che cosa può fare? Conoscendo Piton qualche tiro mancino, rispose Harry, mentre la pozione continuava a schiumare e bollire. Una settimana dopo, Harry, Ron e Ermione stavano attraversando la sala d'ingresso quando videro un gruppo di studenti intorno alla bacheca della scuola, intenti a leggere una pergamena che era appena stata affissa. Simus Finnegan e Dean Thomas, eccitatissimi, gli fecero cenno di avvicinarsi. «Hanno fondato il club dei duellanti», esclamò Simus. «Il primo incontro è per questa sera. Non mi dispiacerebbe prendere lezioni di duello. Con i tempi che corrono, potrebbe tornare utile». «Pensi proprio che il mostro di Serpeverde ti sfiderebbe a duello», commentò Ron, ma anche lui lesse l'avviso con interesse. «Potrebbe essere utile», disse a Harry e Ermione mentre si avviavano a cena. «Ci andiamo anche noi?» I due amici furono d'accordissimo e perciò quella sera, alle otto, scesero di nuovo nella sala grande. Gli immensi tavoli da pranzo erano scomparsi e lungo una parete era apparso un palcoscenico d'oro, illuminato da migliaia di candele sospese in aria. Sotto la magica volta del soffitto, di un nero intenso, sembravano essersi dati convegno quasi tutti, armati di bacchette e molto eccitati. «Chissà chi è l'istruttore», disse Ermione avanzando a fatica tra la folla. «Ho sentito dire che da giovane Fritwick è stato campione di duello, forse sarà lui». «Purché non sia...», cominciò Harry, ma si interruppe con un gemito. In quel momento Gilderoy Lockhart comparve sul palcoscenico, splendido, nel suo abito color prugna scuro, e accompagnato niente meno che da Piton, come al solito, vestito di nero. Lockhart chiese il silenzio con un gesto, poi gridò. «Avicinatevi, avvicinatevi! Mi vedete tutti? Mi sentite tutti? Molto bene! Il professor Silente mi ha dato il permesso di fondare questo piccolo club dei duellanti, perché possiate allenarvi, nel caso doveste avere bisogno di difendervi, come è capitato a me innumerevoli volte. Per ulteriori particolari si vedano i lavori da me pubblicati. «Permettete che vi presenti il mio assistente, il professor Piton», continuò Lockhart con un largo sorriso stampato in faccia. «Mi dice di intendersi un po' dell'arte del duello, e molto sportivamente ha accettato di collaborare per una breve dimostrazione prima di iniziare. «Niente paura, ragazzi! Quando avrò finito, avrete ancora il vostro insegnante di pozioni tutto intero, non temete!» «Non sarebbe male che si facessero fuori a vicenda», borbottò Ron all'orecchio di Harry. Il labbro superiore di Piton stava assumendo una piega strana. Harry si chiedeva come facesse Lockhart a continuare a sorridere. Se Piton avesse guardato lui a quel modo sarebbe scappato a gambe levate. Lockhart e Piton si misero uno di fronte all'altro e si inchinarono, o perlomeno Lockhart fece un inchino tutto svolazzi, mentre Piton piegò leggermente il capo con un movimento che tradiva la sua irritazione. Poi sguainarono le bacchette a mo' di spade. «Come potete vedere, stiamo tenendo le bacchette nella posizione regolamentare di combattimento», commentava Lockhart per la folla che assisteva in silenzio. «Al tre ci lanceremo i primi incantesimi. Nessuno dei due mirerà a uccidere naturalmente». «Non ne sarei tanto sicuro», mormorò Harry vedendo Piton digrignare i denti. «Uno, due, tre». Entrambi sollevarono la bacchetta e la puntarono contro l'avversario. Piton gridò «Expelliarmus!». Ci fu un accecante bagliore di luce scarlatta e Lockhart fu scaraventato a gambe all'aria. Volò all'indietro giù dal palco e sbatté contro la parete, su cui si accasciò finendo a terra. Malfoy e qualche altro serpeverde applaudirono. Hermione saltellava sulla punta dei piedi. «Si sarà fatto male?», strillava. «Ma chi se ne importa?», dissero insieme Harry e Ron. Lockhart si stava rialzando da terra con gambe malferme. Il cappello gli era caduto e i capelli ondulati gli si erano drizzati in testa. «Ecco fatto», disse mentre tornava sul palco barcollando. «Questo era un incantesimo di disarmo. Come potete vedere, ho perso la bacchetta di mano. Grazie, signorina Brown. Sì, ottima idea davvero mostrargli questo, professor Piton. Ma non se la prenda se le dico che le sue intenzioni erano molto evidenti. Avrei potuto fermarla in qualsiasi momento, ma ho pensato che fosse più istruttivo che i ragazzi vedessero». Piton aveva uno sguardo omicida. Probabilmente Lockhart se ne rese conto, perché soggiunse «Basta con le dimostrazioni. Ora passerò in mezzo a voi e formerò delle coppie. Professor Piton, se vuole aiutarmi». Così fecero. Lockhart abbinò Neville con Justin Finch Fletchley, ma Piton si diresse immediatamente verso Harry e Ron. «Credo sia ora di separare la squadra del cuore», disse con tono maligno. «Weasley, tu starai con Finnegan. Quanto a Potter?» Harry si mosse automaticamente verso Hermione. «No, non penso proprio», disse Piton con un sorriso glaciale. «Vieni qui, signor Malfoy. Vediamo come te la cavi, con il famoso Potter. Signorina Granger, tu puoi andare con la signorina Balstrod». Malfoy si fece largo tra i compagni, con un sorriso beffardo stampato sul viso, seguito da una ragazza di serpe verde, che ricordò a Harry un'illustrazione del libro «Footing con la fattucchiera». Era grossa e tarchiata, con l'aria aggressiva. Hermione le rivolse un debole sorriso, che lei non ricambiò. «Tutti uno di fronte all'altro», gridò Lockhart, che era risalito sul palco. «E inchinatevi». Harry e Malfoy chinarono a malapena la testa, senza staccarsi gli occhi di dosso. «Bacchette in posizione», gridò Lockhart. «Al mio tre, lanciate l'incantesimo di disarmo al vostro avversario. Soltanto per disarmarlo, naturalmente. Non vogliamo incidenti». «Uno, due, tre». Harry sollevò la bacchetta, ma Malfoy aveva cominciato al due. Il suo incantesimo colpì Harry con inaudita violenza, come una formidabile padellata in testa. Il ragazzo barcollò, ma poiché non sembrava fosse accaduto niente, senza perdere altro tempo, puntò la sua bacchetta contro Malfoy, gridando «Rictusempra!». Un fascio di luce argentata colpì allo stomaco Malfoy, che si piegò in due con un gemito. «Ho detto di disarmare soltanto!», gridò Lockhart allarmato, sovrastando gli sfidanti, mentre Malfoy cadeva in ginocchio. Harry lo aveva colpito con un incantesimo di solletico e Malfoy, preso da un convulso di risa, poteva muoversi a stento. Harry si ritirò, con la vaga sensazione che sarebbe stato poco sportivo scagliare un sortilegio a Malfoy mentre era a terra, ma fu un errore. Riprendendo fiato, quello puntò la sua bacchetta sulle ginocchia di Harry e gridò «Tarantallegra!». Un attimo dopo, le gambe di Harry avevano preso ad agitarsi senza controllo, in una specie di forsennata Tarantella. «Ferma! Ferma!», gridava Lockhart, ma Piton prese in mano la situazione. «Finite incantaten!», gridò. I piedi di Harry smisero di danzare, Malfoy smise di ridere, ed entrambi furono in grado di alzare lo sguardo. Una cortina di fumo verdastro aleggiava sulla scena. Neville e Justin giacevano a terra, ansimanti. Ron stava aiutando Simus, pallido come un cencio, a rialzarsi, scusandosi per quel che la sua bacchetta rotta aveva provocato. Ma Ermione e Millicent Balstrod combattevano ancora. Millicent aveva afferrato per la testa Ermione che strillava, ma le loro bacchette giacevano a terra, dimenticate. Harry fece un balzo in avanti e allontanò Millicent, anche se con difficoltà, perché la ragazza era molto più corpulenta di lui. «Oh santo cielo!», esclamò Lockhart, svolazzando tra la folla e contemplando le conseguenze provocate dal duello. «Su, in piedi, Macmillan! Attenta là, signorina Fawcett! Stringi forte, Boot, e vedrai che in un attimo smetterà di sanguinare. Sarà meglio che mi insegni a bloccare gli incantesimi ostili», disse agitato in mezzo alla sala. Gettò un'occhiata a Piton, che lo stava fulminando con gli occhi, e subito distolse lo sguardo. «Proviamo con una coppia di volontari. Longbottom e Finch Fletchley, vi va?» «Pessima idea, professore Lockhart», disse Piton muovendosi silenzioso come un grosso e sinistro pipistrello. «Longbottom fa guai anche con gli incantesimi più semplici. Vogliamo mandare dritti in infermeria i resti di Finch Fletchley dentro una scatola di fiammiferi?» Il faccione di Neville diventò ancora più paonazzo. «Che ne dice di Malfoy e Potter?» suggerì Piton con un ghigno malevolo. «Ottima idea!» esclamò Lockhart, gesticolando verso Harry e Malfoy per invitarli a prender posto al centro della sala, mentre la folla indietreggiava per fare largo a entrambi. «Allora, Harry», disse Lockhart, «quando Draco punta contro di te la bacchetta, tu fai questo». E così dicendo sollevò la sua bacchetta, tentò una specie di complicata contorsione e se la lasciò sfuggire di mano. Piton sorrise malignamente, mentre Lockhart la raccoglieva lesto commentando «Oi, la mia bacchetta è un po' sovreccitata!» Piton si avvicinò a Malfoy, si piegò e gli bisbigliò qualcosa all'orecchio. Anche Malfoy sorrise maligno. Harry guardò nervosamente Lockhart e disse «Professore, potrebbe mostrarmi di nuovo quella mossa per bloccare?» «Paura, eh?» borbottò Malfoy in modo che Lockhart non potesse udirlo. «Ti piacerebbe?» fece Harry di rimando a labbra strette. Lockhart batte allegramente sulla spalla di Harry. «Fai esattamente quel che ho fatto io, Harry!» «Cosa, far cadere la bacchetta?» Ma Lockhart non lo ascoltava più. «Tre, due, uno, via!» gridò. Malfoy sollevò rapido la bacchetta e gridò «Serpensortia!» La punta della sua bacchetta esplose. Harry la fissava sbalordito, mentre un lungo serpente nero ne veniva letteralmente sparato fuori. Cadeva pesantemente a terra e si rizzava, pronto a colpire. La folla arretrò rapidamente gridando. «Non ti muovere, Potter!» disse Piton con tono indolente, palesemente divertito, alla vista di Harry che, immobile, fissava negli occhi il serpente arrabbiato. «Ci penso io a mandarlo via!» «Mi consenta!» esclamò Lockhart. Brandì la sua bacchetta contro il rettile. Ci fu un boato. Anziché scomparire, il serpente volò a tre metri d'altezza e poi ricadde a terra con un gran tonfo. Inferocito, sibilando furiosamente, strisciò verso Justin Finch Fletchley e si eresse un'altra volta, a zanne scoperte, pronto a colpire. In seguito Harry si chiese che cosa l'avesse indotto ad agire. Non si rese neanche conto di averlo fatto. Sapeva soltanto che le gambe lo avevano spinto in avanti, come se avesse avuto le rotelle e che aveva gridato stupidamente al serpente «Lascialo stare!» e come per miracolo, inspiegabilmente, quello si era accasciato a terra, innocuo come una canna da giardino, e ora guardava Harry. Harry sentì la paura di solversi dentro di sé. Sapeva che ora il rettile non avrebbe più attaccato nessuno, anche se non avrebbe saputo spiegare cosa gliene desse la certezza. guardò Justin sorridendo, aspettandosi di vederlo rincuorato o perplesso o anche grato, ma certamente mai arrabbiato e spaventato. «A che gioco stai giocando?» gli gridò e prima che Harry potesse dire una parola gli aveva voltato le spalle ed era uscito di corsa dalla sala. Piton si fece avanti, agitò la bacchetta e il serpente si dissolse in una nuvoletta di fumo nero. Anche lui guardava Harry in modo inaspettato. Era uno sguardo scaltro e calcolatore che a Harry non piacque affatto. Per giunta il ragazzo avvertì vagamente un mormorio sinistro levarsi da ogni parte. Poi si sentì tirare per i vestiti. «Vieni via!» era la voce di Ron che gli bisvigliava all'orecchio. «Muoviti! Vieni via!» Ron lo trascinò fuori dalla sala e Hermione li seguì. Quando attraversarono il portone tutti si ritrassero facendogli ala, come se temessero di prendersi un contagio. Harry non aveva la più pallida idea di quel che stesse accadendo e Ron e Hermione non gli diedero spiegazioni fino a che non lo ebbero trascinato nella sala comune di Grifondoro. Allora Ron lo costrinse a sedere in poltrona e disse «Tu sei un rettilofono! Perché non ce l'hai detto?» «Che cosa sarei io?» chiese Harry. «Un rettilofono», disse Ron. «Parli ai serpenti!» «Lo so», disse Harry. «Voglio dire che è solo la seconda volta che lo faccio. Una volta mi è capitato per caso di aizzare un boa constrictor contro mio cugino Dudley allo zoo. È una lunga storia, ma lui mi aveva detto che non era mai stato in Brasile e io senza volerlo l'ho liberato. È accaduto prima di sapere che ero un mago». «Un boa constrictor ti ha detto che non era mai stato in Brasile?» ripetè Ron con un filo di voce. «Cosa c'è di strano?» disse Harry. «Scommetto che un sacco di persone qui sanno farlo». «No che non sanno farlo!» esclamò Ron. «Non è un dono molto comune, Harry. È una cosa malefica!» «Che cosa c'è di malefico?» chiese Harry che cominciava davvero ad arrabbiarsi. «Ma che cosa vi prende a tutti quanti?» «Stammi bene a sentire. Se non avessi detto quel serpente di non attaccare Justin!» «Ah, questo è quel che gli hai detto!» «Che cosa vuoi dire? C'eri anche tu, mi hai sentito!» «Ti ho sentito parlare serpentese», disse Ron. «La lingua dei serpenti. Avresti potuto dire qualsiasi cosa. Non c'è da stupirsi che Justin si sia spaventato. Sembrava che tu stessi aizzando il serpente o qualcosa di simile. Roba da far venire ai brividi, lo sai?» Harry lo guardò. «Io parlavo un'altra lingua. Ma non me ne sono accorto. Come faccio a parlare una lingua senza sapere di conoscerla?» Ron scosse la testa. Sia lui che Ermione avevano una faccia da funerale. Harry non riusciva a capire che cosa ci fosse di tanto terribile. «Mi volete spiegare che cosa c'è di male nell'impedire che un maledetto serpente gigantesco stacchi la testa a Justin», chiese. «Che cosa conta e in che modo l'ho fatto, visto che a Justin è stato risparmiato l'ingresso nella schiera dei cavalieri senza testa?» «Conta e come», disse Ermione, prendendo finalmente la parola con voce strozzata. «Perché la capacità di parlare ai serpenti era la cosa per cui era famoso Salazar serpeverde. Per questo il simbolo della sua casa è un serpente». Harry restò a bocca aperta. «Proprio così», confermò Ron. «E ora tutta la scuola penserà che tu sei il suo pro, 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 pro nipote o qualcosa del genere». «Ma non è vero», disse Harry preso da un panico che non riusciva a spiegarsi. «Non ti sarà facile dimostrarlo», disse Ermione. «Lui è vissuto circa mille anni fa. Per quanto ne sappiamo potresti benissimo esserlo». Quella notte Harry rimase sveglio per ore. Da uno spiraglio delle cortine del suo letto a baldacchino rimase a guardare la neve che cominciava a fioccare davanti alla finestra della torre e rimuginava tra sé. Poteva davvero essere un discendente di Salazar serpeverde? Dopotutto lui non sapeva niente della famiglia di suo padre. I Dursley gli avevano sempre proibito di fare domande sui suoi antenati maghi. A bassa voce cercò di dire qualcosa inserpentese, ma le parole non gli venivano, perché ciò accadesse sembrava che dovesse trovarsi faccia a faccia con un rettile. «Ma io sono nella casa di Grifondoro», pensò. «Se avessi il sangue di serpeverde nelle vene, il cappello parlante non mi avrebbe messo qui. Ah!» esclamò una fastidiosa vocina dentro di lui. «Ma il cappello parlante voleva metterti tra i serpeverde, non ti ricordi?» Harry si voltò dall'altra parte. Il giorno dopo avrebbe visto Justin alla lezione di erbologia e gli avrebbe spiegato che aveva richiamato il serpente, non il contrario. «Ma qualsiasi stupido l'avrebbe capito», pensò prendendo furiosamente appugni il cuscino. Ma la mattina dopo la neve che aveva cominciato a cadere di notte si era trasformata in una tormenta così fitta che l'ultima lezione di erbologia del trimestre fu sospesa. La professoressa Sprout voleva mettere calze e sciarpe alle mandragole, un'operazione delicata che non si sentiva di affidare a nessuno, ora che era diventato così importante che le mandragole crescessero in fretta per rianimare Mrs. Norris e Colin Crivei. Harry rimuginava tutto questo, seduto accanto al fuoco nella sala comune di Grifondoro, mentre Ron e Hermione ingannavano il tempo giocando a scacchi magici. «Per l'amor del cielo, Harry!» esclamò Hermione esasperata, mentre un alfiere di Ron le faceva fuori un cavallo, trascinandolo via dalla scacchiera. «Fai a cercare Justin, se per te è così importante!» Harry si alzò e uscì dalla sala passando per il buco del ritratto e chiedendosi dove mai potesse essere Justin. Il castello, che già normalmente era buio anche di giorno, quella mattina lo era ancora più del solito per via della fitta neve grigia che fioccava, oscurando tutte le finestre. Scosso da un brivido, Harry passò davanti alle classi dove si tenevano le lezioni, cercando di capire che cosa stesse accadendo dentro. La professoressa McGonagall stava rimproverando qualcuno che, a quanto pareva, aveva trasformato il suo compagno in un tasso. Resistendo all'impulso di entrare a dare un'occhiata, Harry passò oltre, pensando che forse Justin aveva deciso di sfruttare l'ora libera per portarsi avanti con i compiti per l'indomani, e decise di andare a vedere prima in biblioteca. Infatti, un gruppetto di ragazzi di tassofrasso, che avrebbero dovuto essere alla lezione di erbologia, si trovavano in fondo alla biblioteca, ma non sembrava stessero studiando. Tra le lunghe file degli alti scaffali, Harry poteva vederli raccolti in circolo, impegnati in una conversazione animata. Non riuscì a vedere se tra loro c'era Justin. Mentre si avvicinava, colse un brandello di quella conversazione e si fermò ad ascoltare, nascosto nel reparto invisibilità. «In ogni caso», stava dicendo un ragazzo corpulento, «ho detto a Justin di restare nascosto nel nostro dormitorio. Voglio dire, se Potter lo ha preso di mira come sua prossima vittima, è meglio che lui si tenga alla larga per un po'. Inutile dire che Justin si aspettava qualcosa del genere, da quando se l'ha lasciato sfuggire con Potter, che era nato babbano. In realtà, Justin gli ha spiattellato che doveva andare a Eton, e non è certo il genere di cose che uno va a strombazzare quando in giro c'è l'erede di Serpeverde, non trovate?» «Allora, Ernie, sei proprio sicuro che sia Potter?» chiese ansiosamente una ragazza con le treccine bionde. «Anna», disse solennemente il ragazzo corpulento, «lui è un rettilofono. Tutti sanno che quello è segno di magia oscura. Hai mai sentito dire che un mago per bene parli ai serpenti? Lo stesso Serpeverde veniva chiamato lingua di serpente». Queste parole furono seguite da un animato mormorio. Poi Ernie proseguì. «Vi ricordate la scritta sul muro? Temete, nemici dell'erede». Potter ha avuto una specie di battibecco con Filch. Subito dopo, la gatta di Filch è stata aggredita. Quel ragazzo del primo anno, Crivei, ha infastidito Potter durante la partita di Quidditch, scattandogli foto mentre lui era lungo disteso nel fango. e non passano poche ore che anche Crivei viene aggredito. «Ma è sempre così carino, però», disse Anna con voce incerta. «E, beh, è lui che ha fatto sparire voi sapete chi. Non può essere cattivo, no?» Ernie abbassò la voce come per svelare qualcosa di misterioso. I suoi compagni gli si strinsero intorno e Ernie si avvicinò tanto da poter udire le sue parole. «Nessuno sa come ha fatto a sopravvivere a quell'attacco di voi sapete chi. Voglio dire, a quell'epoca era poco più di un neonato. Normalmente sarebbe stato fatto a pezzi. Solo un mago oscuro, davvero potente, poteva sopravvivere a una simile maledizione». A questo punto la sua voce divenne un bisbiglio. «Questa è probabilmente la vera ragione per cui voi sapete chi voleva ucciderlo. Non voleva la concorrenza di un altro signore oscuro. Chissà quali altri poteri nasconde Potter». Ernie non poté trattenersi oltre. Schiarendosi rumorosamente la gola uscì da dietro gli scaffali. Non fosse stato per la gran rabbia che aveva dentro avrebbe trovato buffa la scena che accolse il suo arrivo. Sembrava che, alla sua vista, i tassofrasso fossero stati effettivamente pietrificati ed Ernie divenne pallidissimo. «Salve!» disse Ernie. «Stavo cercando Justin Finch Fletchley». I peggiori presentimenti dei tassofrasso venivano chiaramente confermati. Tutti guardarono Ernie impauriti. «Che cosa vuoi da lui?» gli chiese Ernie con la voce che gli tremava. «Volevo spiegargli quel che è accaduto veramente con il serpente al duello», disse Ernie. Ernie si morse le labbra e poi, prendendo fiato, disse «C'eravamo tutti. Abbiamo visto quel che è accaduto». «Allora avete anche visto che dopo le mie parole il serpente si è ritirato», disse Ernie. «Tutto quel che ho visto», disse Ernie testardo per quanto tremante, «è che tu parlavi in serpentese e aizzavi il serpente contro Justin». «Non l'ho aizzato contro di lui», esclamò Ernie con voce tremante e di rabbia. «Il serpente non lo ha neanche sfiorato». «Lo ha mancato di poco», replicò Ernie. «E nel caso tu ti stessi facendo venire in mente qualche strana idea», si affrettò a soggiungere. «Posso dirti che puoi risalire nell'albero genealogico della mia famiglia di nove generazioni e non troverai altro che streghe e maghi. Il mio sangue è purissimo, quindi non mi importa un accidente del tuo sangue», disse Ernie con fermezza. «Perché mai dovrei volere attentare ai nati babbani?» «Ho sentito dire che detesti i babbani con cui vivi», si affrettò a dire Ernie. «Non è possibile vivere con i Darsley senza odiarli», replicò Ernie. «Vorrei vedere te al mio posto». Girò sui tacchi e uscì di corsa dalla biblioteca, procurandosi un'occhiataccia da parte di Madame Pince, che stava lucidando la copertina dorata di un librone di incantesimi. Era talmente infuriato che fece il corridoio di corsa, senza neanche far caso a dove stesse andando, col risultato che rimbalzò contro qualcosa di molto voluminoso e solido e piombò a terra. «Oh, salve Hagrid», disse alzando lo sguardo. La testa di Hagrid era completamente nascosta da un passamontagna di lana, tutto coperto di neve, ma non poteva essere altro che lui, perché occupava mezzo corridoio, avvolto nel suo pastrano di fustagno. Da una delle sue manone guantate pendeva un galletto morto. «Che combini, Ernie?», chiese sollevando il passamontagna per poter parlare. «Perché non sei in classe?». «Lezione sospesa», spiegò Ernie rialzandosi. «E tu cosa ci fai qui?». Hagrid sollevò il galletto stecchito. «È il secondo che mi schiatta in tre mesi», spiegò. «O sono le volpi o è uno spauracchio succhia sangue. Mi serve il permesso del preside per mettere un incantesimo intorno al pollaio». Scrutò Ernie più da vicino, da sotto le folte sopracciglia, piene di neve. «Sicuro che stai bene? Sei rosso come un peperone e sembri stravolto». Ernie non se la sentì di ripetere quel che avevano detto di lui Ernie e i suoi compagni di tassofrasso. «Non è niente», disse. «Ma ora devo andare, Hagrid. La prossima lezione è trasfigurazione e devo salire a prendere i libri». Si allontanò con la mente piena dei commenti di Ernie su di lui. Naturalmente Justin aspettava che qualcosa del genere accadesse fin da quando si era lasciato sfuggire con Potter, che era nato babbano. Salì le scale e poi svoltò per un altro corridoio, particolarmente buio. Le torce erano state spente da un forte spiffero gelato che soffiava attraverso una finestra semi chiusa. Giunto a metà strada, inciampò e cadde sopra qualcosa che giaceva sul pavimento. Si voltò per guardare cosa fosse e si sentì un vuoto allo stomaco. Steso a terra, rigido e freddo, c'era Justin Finch-Fletchley, la faccia contratta in un'espressione di terrore e gli occhi vuoti, fissi al soffitto. E non era tutto. Accanto a lui c'era un'altra sagoma, lo spettacolo più strano che Ernie avesse mai visto. Era Nick quasi senza testa, non più del suo colore bianco perlaceo e trasparente, ma nero e fumoso, che galleggiava immobile e orizzontale, a quindici centimetri da terra. La testa era per metà staccata dal collo e sul viso aveva un'espressione sconvolta, identica a quella di Justin. Ernie si rialzò, ansimava e il cuore gli batteva come un tamburo contro le costole. Disperato, guardò su e giù lungo il corridoio deserto e vide una fila di ragni che si allontanavano dai due corpi a tutta velocità. Gli unici rumori erano le voci attutite degli insegnanti che provenivano dalle classi lungo il corridoio. Avrebbe potuto correre via e nessuno avrebbe mai saputo che era stato lì, ma non poteva lasciare quei due stesi lì per terra, doveva chiamare aiuto. Avrebbero creduto che con quella faccenda a lui non c'entrava niente. Stava lì, in preda al panico, quando una porta accanto a lui si aprì di scatto e ne schizzò fuori Peeves il poltergeist. «Ah, c'è Potter picchiatello!» chiocciò Peeves passando davanti a Harry a tutta velocità e mandandogli di traverso gli occhiali. «Che cosa sta facendo, Potter? Perché Potter si aggira furtivo?» Poi si interruppe e fece una capriola a mezz'aria. Da sotto in su vide Justin e Nick quasi senza testa. Tornò in posizione eretta, si riempì i polmoni d'aria e prima che Harry potesse fermarlo cominciò a gridare «Attentato! Attentato! Né mortali né fantasmi sono al sicuro! Mettetevi in salvo! Attentato!» Sbam, sbam, sbam! Una dopo l'altra le porte del corridoio si spalancarono e gli studenti uscirono precipitosamente dalle aule. Per alcuni lunghi minuti regnò una tale confusione che Justin corse il pericolo di venire schiacciato e nessuno si accorse di calpestare lo spazio incorporeo di Nick quasi senza testa. Harry si trovò schiacciato contro la parete mentre gli insegnanti chiedevano a gran voce di fare silenzio. La professoressa McGonagall sopraggiunse di corsa seguita dai suoi allievi, uno dei quali aveva ancora i capelli a strisce bianche e nere. Fece scoppiare un forte colpo dalla bacchetta ripristinando il silenzio, quindi ordinò a tutti di rientrare in classe. Era appena tornato un po' d'ordine quando il tassofrasso Ernie arrivò sulla scena col fiatone. «Colto sul fatto!» gridò con il viso bianco come uno straccio lavato e puntando il dito contro Harry con gesto drammatico. «Basta così, Macmillan!» intimò secca la McGonagall. Ora Peeves svolazzava per aria con un sorriso malevolo, osservando la scena. A Peeves era sempre piaciuta la confusione. Quando gli insegnanti si chinarono su Justin e su Nick quasi senza testa per esaminarli, intonò la canzoncina. «È Potter, canaglia, che infuria e si scaglia, che uccide studenti e ride tra i denti!» «Smetti la Peeves!» tuonò la McGonagall e lui piroettò facendo una linguaccia a Harry. Justin fu portato in infermeria dal professor Flitwick e dalla professoressa sinistra del dipartimento di astronomia, ma per Nick quasi senza testa sembrava che nessuno sapesse cosa fare. Alla fine la McGonagall fece apparire dall'aria un grosso ventaglio che consegnò a Ernie con l'incarico di sventolare Nick quasi senza testa e di sospingerlo su per le scale. E così fece Ernie, sventolando Nick lungo il tragitto come un nuvolone nero. A quel punto Harry e la professoressa McGonagall rimasero soli. «Da questa parte, Potter», fece lei. «Professoressa», disse subito Ernie, «io le giuro che non... non è una questione di mia competenza, Potter», tagliò corto la McGonagall. Camminarono in silenzio, girarono un angolo e si fermarono davanti a un orribile e immenso gargoyle di pietra. «Fritz Lemon», disse lei. Evidentemente era una parola d'ordine, perché tutt'un tratto il gargoyle prese vita e fece un balzo di lato, mentre la parete dietro di esso si apriva. Quantunque molto spaventato per quel che sarebbe successo, Ernie non riuscì a trattenere lo stupore. Dietro la parete c'era una scala a chiocciola che si muoveva dolcemente verso l'alto, come una scala mobile. Vi salì insieme alla McGonagall e a quel punto udì il tonfo della parete che si richiudeva alle loro spalle. Salirono a spirale, su, su, sempre più in alto, fino a che Ernie, leggermente stordito, vide davanti a sé una porta di quercia lucente con un batacchio di rame a forma di grifone. Sapeva dove lo stavano portando. Quello doveva essere il luogo in cui viveva silente.